Da 8 a 32 classi in quarantena in provincia di Lecco in poco più di una settimana. Con la riapertura delle scuole superiori, seppure in presenza al 50%, si moltiplicano i contagi. Gli ultimi numeri forniti da TS Breanza parlano appunto di una trentina di classi in isolamento, 9 all'Ecco città, 5 in istituti superiori. La quarantena scatta se il soggetto risultato positivo, senza evidenza di variante al virus, ha frequentato la scuola nelle 48 ore precedenti l'esordio dei sintomi o l'effettuazione del tampone. Se invece viene riscontrata una variante Covid, il tracciamento andrà indietro fino ai 14 giorni precedenti il riscontro della positività. Intanto dal 26 aprile dovrebbe scomparire la didattica a distanza, con la presenza degli alunni in classe al 100%. Qualche perplessità da parte dei presidi lecchesi? Le norme si applicano e non si commentano, dice il dirigente dell'Istituto Fiocchi, Claudio Lafranconi. Noi siamo pronti, anche se il termine rischio calcolato non è esattamente nelle mie corde, soprattutto visti gli attuali numeri delle classi in quarantena. Nessuna però ha Fiocchi. Abbiamo chiesto al Ministero se i protocolli Covid applicati già dallo scorso settembre sono validi, anche in presenza delle varianti, ma non abbiamo ancora ricevuto risposta. A preoccupare soprattutto la maturità, anche un solo studente positivo potrebbe far sdittare gli esami. Per questo, come Istituto Fiocchi, conclude Lafranconi, stiamo valutando, se la normativa lo consente, di mettere in dadda a partire dal 1 giugno gli studenti di Quinta. L'obiettivo è quello di diminuire il rischio.